Ciao Xigira, ciao Filippo, ciao Gabriele, che facciamo a Capodanno? Al Capodanno facciamo una roba da batti, partiamo alle 11, 11 no, 22, 11, sotto il tendone all'incirco a Ponte Verucchio, e proviamo a, come si dice, a violare, a smontare il tendone, no, quello sì, proviamo a violare e a rubare, non è detenuto da Elio il stretese, ha già un piccale, eh sì, dobbiamo fregarli, loro hanno fatto 12 ore qualche cosa, noi faremo 15 ore di canzone, il concerto di Filippo per 15 ore? Beh, il concerto sarà una canzone eseguita per 12 ore, anzi per 15 ore, per cui vi do appuntamento a tutti quanti, il 31 dicembre 2004, a Ponte Verucchio, sotto un circo che verrà montato proprio ad hoc per l'occasione, e dico già che pezzo faremo, faremo 10 ore, per 15 ore, ce la faremo, vedi così?